eccoci qua questo è il primo video il problema di tutti quando si usa una motosega è il ricambio nel senso quale catena devo usare quanto è lunga che passo che spessore bene in questo video vi spiego come risolvere questi problemi bene ragazzi prendiamo con noi questa motosega squarna come vedete questa motosega ha una barra e una catena nuova quindi verrà facilissimo capire dove individuare i dati che ci servono allora innanzitutto bisogna togliere il carterino e vi faccio vedere dove sono i dati anche se i dati sono comunque da questa parte ok sono al di fuori non c'è bisogno di smontarla però vi faccio vedere smontata così facciamo un'inquadratura anche migliore allora questa è la barra smontata dalla catena nella parte che va attaccata direttamente sul carterino quindi sul pignone della motosega troviamo incisi dei dati questi dati riportano innanzitutto la parte superiore dove c'è il codice del ritraccio del ricambio poi sotto troviamo una scritta che è 325 quello indica il passo della catena quindi diciamo il modello della catena subito dopo troviamo due diciture una in pollici una in millimetri quella in pollici dice 0,058 e quella in millimetri 1.5 non è altro che lo spessore della catena della motosega subito dopo troviamo 66 e questo è il numero dei denti della catena della motosega allora quindi come capire in caso non ci siano i dati sulla barra allora per questa motosega per fare un esempio potrebbe essere tutto sfasato perché questa è una motosega che è stata modificata da me è stato modificato il motore è stata modificata la barra per migliorare le prestazioni su questa tipologia di motosega su questa squarna qua sopra ci sono indicati comunque i dati della catena originale e della barra originale ok questa motosega montava una catena da 325 quindi come questa però con una barra che portava uno spessore da 1.3 ok cosa è successo io ho modificato mettendo una barra nuova logicamente l'ho presa da 1.5 quindi ho preso uno spessore di catena più grande quindi anche la catena è più grande ora come individuare questo semplicemente prendendo un calibro ok non si fa altro che poter misurare lo spessore del dente quindi in questo modo e si determina se dovete determinare la lunghezza è ancora più semplice ragazzi abbiamo detto che i denti che devono essere contati sono quelli all'interno della catena quindi non si fa altro che contare i denti che sono all'interno e si avrà la lunghezza esatta della catena che la motosega monta in quel momento perché se si cambia una barra e si mette una barra anziché da 40 centimetri se mette una barra da 35 centimetri logicamente la motosega avrà una catena con una lunghezza diversa la motosega Grazie a tutti